Prego Bruno Ravera. Prima di tutti auguri a voi e alle famiglie per Natale, questo è già molto importante. Comunque è una cosa, un saluto dalla grande Genova che purtroppo in questo momento è sotto, diciamo così, al comunismo perché Doria è veramente, comunque noi prendiamo veramente le cose alla grande. Oggi è una grande giornata signori perché Barone ha fatto una cosa veramente eccezionale perché aveva tanto da fare e vorrei chiamare, vorrei chiamare non più Macro Regione ma Macro Nazione, non Macro Regione, Macro Nazione Nord. Comunque Barone ha fatto una cosa eccezionale, visto che aveva molto da fare perché lui deve andare in Europa a trovare i movimenti che sono simili ai nostri per poter fare una grande Europa, un'Europa dei popoli e questo è veramente eccezionale. Oggi, diciamo così, Salvini sarà il nostro segretario federale. E' veramente, ha dimostrato di lavorare sul territorio, noi abbiamo bisogno della gente che lavora sul territorio e parlare alla gente perché la Lega è sempre stata con la gente e per la gente, mai per se stessa, sempre lavorare per diventare più grandi. La Liguria va molto bene, diciamo così, non c'è stato mai, anche ultimamente, c'è stato un grosso lavoro, devo fare complimenti alla segretaria Sogna Viale che veramente ha portato una tranquillità nel movimento, che vi venite a gioia. Ora voglio dire anche molte cose. Vedete, noi abbiamo l'Euro, l'Euro ha una quotazione troppo alta e allora bisognerebbe poter stampare l'Euro perché hanno paura di stampare l'Euro e portare la quotazione del Dollare per poter rilanciare le nostre aziende e diventano competitivi in Europa. Questa è già una cosa molto importante da fare. Poi, dato che fabbriche e cose chiudono, sarebbe rilanciare, dato che abbiamo delle coste bellissime, rilanciare il turismo che veramente è stato addormentato da tutti i governi e noi abbiamo tante spiagge. E delle volte il sole nella nostra pelisola è meglio d'inverno che d'estate. Comunque io vi dico che sono molto contento di poter parlare a tutti voi perché oggi si dà il via. Credo che abbiamo molto da lavorare e diciamo così, io finisco dicendo bisogna andare all'attacco e all'attacco attacco per riprendersi i voti che non abbiamo perso ma che aspettano ancora il nostro progetto. Il progetto non più i prefetti, tutte quelle cose che noi abbiamo fatto in principio che ancora oggi sono valevoli. Il progetto è ancora buono. Andiamo avanti col progetto e viva la Lega Nord Liguria e viva tutta la Lega Federale. Vi ringrazio. Grazie, grazie anche per il rispetto dei tempi.